ciao a tutti buonasera benvenuti sul mio canale da un po che non postavo video oggi facciamolo svuota spesa siamo andati in due posti a md e alla conad allora iniziamo con md allora abbiamo preso questi salamini affumicati le ho prese altre volte sono buoni per sozzicare o abbiamo preso la coppa di suino per fare sulla piastra poi ho trovato il purè non so se voi l'avete mangiate la prima volta deve stare quattro minuti nel microonde senza conservanti solo patate fresche vediamo spero che sia buono le ho prese due confezioni poi ho preso questi peperoni rischi questi due ore e cinquanta mi sa che stavano per farli arrossiti in sala camista poi questo formaggio fondal non so che formaggio io non me ne intendo formaggi non ne mangio poi tre confezioni di queste mozzarelle molisana stavano in offerta a 2 euro 1 euro e 99 tre confezioni sono da 250 grammi allora tutta questa spesa l'abbiamo pagata 23 euro da md mentre dalla conad ho preso a san pellegrino aranciata rossa questa è buona una pepsi stava in offerta un euro e qualcosa poi abbiamo preso le gocciole queste non le ho mai prese perché le mangio dicono che sono buone mai comprate spero che mi piacciono poi ho preso le orecchiette della livella queste sono piccoline ho preso quattro pacchi quando faccio le orecchiette con le cimi di rapa faccio con questa pasta sono buona poi due pacchi di ringo uno al cacao e una alla vaniglia stavano in offerta il limone io compro questo tu e vieni un pacco degli oaker alla nocciola il risotto e i funghi porcini stava sempre in offerta e uno alle asparagi all'asparagi non l'ho mai mangiato speriamo che buono i bastoncini di pesce ma l'ho fatto l'ho fatto lo veniva pure qua? si lui è Giuseppino e io ho preso e ho preso e ho preso quelli e le polpette al salmone sono 200 grammi 180 grammi e perché c'è male? e al merluzzo impanate Giuseppe però stai zitto eh sì ma così 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 e per ultimo uno questo ci chiamano e c'è che c'è che c'è quella? i tentacoli di todano tanto queste le faccio con il sugo sugo ma che c'è? ma che c'è quella? e poi ci faccio spaghetti ma che c'è quella? allora lo scontrino dove sta? ma non so ah questo qua che è la Conad e quella? questa? allora la Conad abbiamo speso 48 euro e 15 centesimi e perché? poco a sé? quella più ah due pacchi di crocchette per i gatti dove stanno? ah stanno là e quella sempre la Conad e la birra dove sta la birra? sparita eh non ti è finito già nel frigo è quello e quello è il blu eh che cosa? blu e questo è è è verde questo è marrone ma qual è quella? quelli? vediamo quelli è la macchina ma guardiamo quelli quelle quelli no ti sei paura di mangiare allora vi saluto se vi è piaciuto questo video mettete un like iscrivetevi al canale come? buonanotte perché qua è sera al prossimo video ciao 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 ciao